Ciao a tutti. Oggi vediamo come proteggere un pannello del piano della cucina in MDF dal vapore della lavastoviglie. Come è possibile vedere questo pannello si è rovinato col tempo perché il vapore che esce dalla lavastoviglie quando la si apre dopo aver funzionato ha fatto sì che si rovinasse il ripiano. Utilizzo questi due strumenti una raspa e una spugna abrasiva. Prima naturalmente devo sgrossare con la raspa per togliere tutte le parti che si sono rovinate. Cominciamo a vedere che una parte è venuta via, però bisogna ancora andare a togliere bene, naturalmente cercando di non rovinare il bordo esterno in alluminio. Bisogna stare proprio orizzontali per togliere solo la parte in MDF sotto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per liciare bene le parti che dovranno essere trattate. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Devono essere sporgenze, quindi deve essere il più liscio possibile. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ecco, una volta lisciato completamente, vediamo che non ci sono più sporgenze. Sotto avevo messo un cellophane per proteggere la lavastoviglie e si vedono tutti i rimasugli. Ecco cosa andiamo ad applicare, è un foglio adesivo di carta di alluminio. E questo proteggerà il ripiano nella parte sotto che abbiamo lavorato adesso. Taglio della misura giusta. come dicevo, come dicevo si tratta di un adesivo, quindi facile da applicare, ci vuole solo un po' di pazienza per fare un lavoro molto fine, e riuscire ad andare a coprire bene e riuscire ad andare a coprire bene dappertutto, senza uscire dal bordo del piano naturalmente. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ecco, vediamo che qui abbiamo quasi messo la prima striscia, naturalmente poi devo andare a riempire bene dappertutto, anche nelle parti verticali. Ecco, vediamo che qui ho messo anche un pezzo sulla parte verticale e ho riempito bene tutta la parte più esterna. Poi andrò a mettere un'altra striscia più interna, in modo da coprire completamente tutto lo spazio. Qui il lavoro è finito, ho ricoperto tutto lo spazio e i due bordi verticali, fino a passare sotto al mobiletto che abbiamo in fianco. A questo punto non dovrebbero più esserci problemi nel momento in cui esce del vapore, aprendo la lavastoviglie quando appena smesso di funzionare. Spero di esservi stata utile, a presto, ciao a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.